Cari amici della Pocanotomia, buona domenica a tutti e grande richiesta, mi scuso per la pettinatura come sempre, di belle della domenica mattina, ecco qua Sua Maestà, il Rocknel Sailor, è un pezzo da 150 grammi più o meno, 143, 144 insomma, vedete subito la scritta Sailor e il numero di serie, in questo caso il mio 39 Master Collection, ovviamente il logo della Rocknel, qui lo uccidiamo, e questo è considerato un regolabile cult, guardate che l'anellino, c'è anche la versione dorata, la versione argentata, con le varie regolazioni, vedete come il rasoio da 1 a 5, numeri romani, numeri romani, vedete, già armato con una perma sharp turca, vedete come si alza il rasoio, questa è una regolazione a 2, 1, 5, 3, 2, vediamo se l'ho regolato bene, si l'ho regolato bene, quindi questo è l'1, questo è l'1, è una falce, quindi devi stare molto attenti, questo è il 2, poi andiamo al 3, andiamo al 4, perché c'è già, e andiamo al 5, ecco qua, io sto sul 3, sul 3 perché non voglio, non voglio esagerare, e voglio fare una latatura confortevole, spero almeno. Allora, come pennello, un sintetico, Omega Emo, che è un po' che non usiamo, e come set, non so se ve l'ho già fatto vedere, un po' di tempo che ce l'ho, lo Stirling in il Barbershop, il Barbershop, eccolo qua, è molto carina la grafica, tallovato chiaramente, qui mettiamo un po' d'acqua calda da fare la preparazione al prelievo, intanto mi lavo anche la faccia, e sciacchiamo un po' il pennello. Io continuo a dire che il Roma, poi sempre Omega, quindi non faccio concorrenza, semmai concorrenza interna, diciamo così, io continuo a preferire il mio Roma, però anche l'Evo ha il suo perché, tanti lo apprezzano tantissimo e quindi va usato ogni tanto. Allora, la metta è già montata per velocizzare, quindi la metta è la Permasharp turca, eccola qua. Allora, so che molti hanno apprezzato il set di Amici della Prototomia, ringrazio tutti veramente per i commenti che sono stati quasi commoventi, perché noi abbiamo fatto quello che, tra noi parliamo anche di Donato, Ciniello, che è quello che poi alla fine che cosa le fa, noi le suggeriamo, ma un prodotto che veramente rispettasse, e lo ripeto l'ultima volta, ma perché così, il nostro gusto. Cioè a noi non interessa e non interessava e non interesserà fare saponi per avere la nostra faccia sul sapone. A noi interessa, interessava e interesserà fare saponi, sprofumi in particolare, nel mio caso, che mi piacciano. Ecco, quindi se in futuro succederà che troverò delle idee, delle soluzioni, delle ispirazioni, anche perché no, allora si potrà pensare a farne un altro. In questo momento, se è un successo incredibile, ringrazio veramente tutti, io non pensavo paura, il risultato effettivamente, grazie anche al produttore, è stato eccezionale e quindi godetevelo chi ce l'ha, insomma. Spero che poi questo sistema della prenotazione, la prossima volta, venga capito ancora meglio, in modo da poter fare sì che nessuno rimanga senza. Ma parliamo di oggi, Barbershop. Ancuno qua. Tallo. Con l'acqua un po' calda, un goccio, eh, si è già reso più disponibile al prelievo, perché il sapore è quasi duro, eh. Vanigliato, che secondo il produttore dovrebbe rispecchiare quelle che sono le barberie, il profumo delle barberie. Io sinceramente non ce lo sento, sento un grande vanigliato di guarità, forse, ma forse una nota di tabacco, non lo so, eh. Io ho un naso terribile. Sto cercando di capire se c'è scritto qualcosa. Ok, adesso abbiamo prelevato la quantità, che secondo me basta. Sassuffì, come dicono i francesi. Chiudiamo il nostro Barbershop. Eccolo qua. Un po' d'acqua calda, ovviamente. Iniziamo a spanderlo, per lo meno. Molto denso, eh. Appiccica. Va diluito, chiaramente. Premetto che qui mi è cresciuto un brufoletto, quindi potrebbe anche tagliarsi. A forza di mangiare schifezze, eh. Torniamo ad adolescenti, no, scherzo, però, un brufoletto mi è cresciuto. Protezione uniforme, non troppo ariosa, anzi per niente ariosa, ma quasi un film sulla pelle. E temo che con questo Rocknell Sailor serva. Andiamo. Prima volta, eh. E qua il brufoletto. Lavo subito, lavo, scherzo, subito per qua il sapore vegetale che va via, come niente, e qua bisogna subito pulire. Asciacchiamo il rosullo. Per ora va come un fuso. Qua cosa ferma è sharp. Eccolo qua, guardatelo. Non si è ancora rotto. Zona bassi. Qui, una testa importante, eh, quindi non stare attenti. Ecco fatto. Mi ha già fatto tutto, anzi, qua mi l'ho dimenticato di togliere, di radere, in una passata. E' mordace, eh. Attenzione, è mordace. Però il vago è confuso. Seconda passata. Qui il montaggio esplode. Qui il montaggio esplode. Qui i pennellati servono vigorosi per accelerare il montaggio, no? Qui i pensi di togliere. Eccolo qui. Quì, La Einu... Mor. Pelo obliquo e contrapelo. Piccolo redpoint nel solito punto intersezione dove ho anche qua una sproduberanza, ma niente di che, niente di drammatico, e già tre comunque cartella. Forse era da regolare un po' più basso. Qui vedete che io ho un... ogni tanto... Spesso non è passata dalla mia destra alla sinistra, me lo toccano. Ma la rovetta, eh? Arriva subito. Contrapelo. E qui non c'è più niente. Niente. Ok. Si sciacqua con l'agua fresca. Tamponiamo. Guardate il risultato, a parte questo redpoint che, ripeto, è ricorrente perché lì c'è un avvallamento. Qua forse ne ha fatto uno piccolo. E' perché comunque a tre non è... Cioè usarlo con l'involtura la prima volta può provocare queste cose qua. Però vedete che il risultato, a parte quello, è ottimo. Allora mettiamo un po' di Wichesel. Allora, come sempre ho detto, e questo non va assolutamente a mia difesa perché non ho niente a difendere, mi faccio un redpoint, anzi ne faccio un fracco, quindi non è che... perché mi rado una volta velocemente. Come vedete le mie passate sono lunghe e sono delle volte pericolose. lo sciacquo al rasoio. Un redpoint non è grave perché è un incendio di percorso. Quello che è grave è quando non ci si riesce a radere o ci si irrida tutti. Allora, lì sì, quando abbiamo grandi irritazioni quello invece è un problema di tecnica. Il redpoint è dovuto alla disattenzione, perché io sapevo ad esempio che qua ho questo piccolo avvallamento quindi non avrei dovuto fare il ripasso così, no? Quindi qua non si è nemmeno rotto. Viene a darci piano quei rasoio nuovi mai usati, mai provati. Un rasoio da provato per un po' di tempo per poterlo manneggiare con estrema sicurezza. Allora, iniziamo a fare una disamina. Abbinamento per Marsharp Sailor 2021. Efficacissimo regolato a 3. Vi devo dire che lo rifacessi, visto che è la prima volta che mi radevo con questo rasoio, lo setterei più basso perché effettivamente è una falce. ma rade benissimo. Poi, notate, sentite il rumore? Nessuno. Va su, giù. Nessun rumore. Però bisogna stare attenti. È un rasoio che non perdona giustamente, è fatto per radere. Quindi, qua c'è la A, che non solo voglia dire adjustable o aggressivo, come modello, non penso sia adjustable. E 2021. Scritta Sailor, faccio il resumé. E poi sotto c'è scritto Collection Rock nel Master, il numero 39. Spero che si veda. Andiamo in Arthur Shade. Barbershop. Colore ambrato. Sembra... Non vi dico cosa perché non voglio offendere chi ha problemi. di bigliorubina. No, però... Qui la vaniglia esplode. Molto classico. Molto classico. Vai al vostro barbershop. Della Stirling. Con il nostro barber pole. Allora, quindi set della Stirling. Tallovato. Delicato. Vanigliato. Molto classico. Per chi piacciono questi sentori non forti, tradizionali, che ricordano molto appunto il profumo pulito. Il profumo della barberia. Il profumo di quel pulito che si sente da parrocchiere. Almeno ve lo auguro. Bene. Cosa dire del pennello? Chi ha fatto il suo lavoro? Il nostro Omega Evo. Ha fatto il suo lavoro... Io preferisco Roma, ma... con questi busti buzi. Non me lo nest. Come dicevano i romani, no? Quindi... Va benissimo. Non è un pennello scarso. Anzi, ci mancherebbe ancora. In questa versione marmorea. Ma io, se dovessi scegliere, tra i due, sceglievo Roma. Vedete che il Red Point si era assorbito, quindi era soltanto un pizzicore. Però, attenzione, quando usate i rasoli nuovi, perché l'incidente si mette dall'angolo. Questo Rocknell, che rappresenta forse un punto d'arrivo della mia collezione. Io lo dico chiaramente. Io ormai penso di aver raggiunto, ecco, forse un toggle di quelli vintage, ecco. Ma trovo che questa inflazione di rasoi di acciaio, tutti uguali meno male, no? Perché, non dovete vedere in giro, tutti con se stesse sia un po' stucchevole. Cioè, io inizio dalla collezione dei vintage, poi sono passato quando c'era l'acciaio, ma l'acciaio lo facevano in tre. Lo facevano, mi ricordo, la Pides, lo facevano a Vudetai, lo facevano... Non mi ricordo, non so... Mi faccio delle domande complicate, ma lo facevano in pochi rasoli d'acciaio inossidabile. Inossidabile, si diceva all'epoca. Sign and still. Avudetai, sono delle prime. Pils, mi ricordo che era un must. Poi gli americani, che per ora c'era stampato, in alcuni. Adesso tutti fanno loro rasoli d'acciaio, fatto con il CNC, Machened, insomma, anche qua in frazione. Io credo che con questo la mia collezione può dirsi quasi completata a livello di rasoli, diciamo, al momento. Trovassi qualcosa di vintage, che mi manca un toggle, ecco, lì magari però siamo sui 1000 euro, quindi lasciamo anche stare. Va bene, signori, io vi ringrazio, non so veramente minchino per l'affetto che mi avete fatto sentire, vi chiedo una cortesia. Iscrivetevi al canale, fate iscrivere i vostri amici, è base a schiacciare iscriviti. Iscrivetevi al gruppo Facebook di Amici della Pognotomia e iscrivetevi alla chat nostra. Trovate tutti i riferimenti nel canale YouTube, nella pagina iniziale trovate i vari link. Grazie di cuore, buona domenica e buona barba a tutti.